Partiti i lavori del Comune di Pordenone per riqualificare l'ex casa maternità e infanzia lungo la riviera Asca, che oggi ospita i giudici di pace. L'edificio diventerà moderno e funzionale, consentendo anche il facile accesso alle persone diversamente abili. I lavori rientrano nel grande piano cantieri del Comune, ripreso a pieno regime dopo l'emergenza Covid. Mai come in questo momento il Comune non deve fermarsi, deve andare avanti, deve continuare ad investire quelle risorse che abbiamo intercettato nel recente passato. Significa dare un contributo fattivo alla ripresa economica in un momento in cui l'economia invece è ferma e arranca per causa dell'emergenza virus. Parliamo poi di un'opera attesa da più di vent'anni. La sede dei giudici di pace era completamente fuori norma, sostanzialmente inagibile, pur contenendo un servizio frequentatissimo e fondamentale per la vita della giustizia e anche per la vita dei cittadini. Abbiamo stanziato 2 milioni e 300 mila euro per una riqualificazione sismica, energetica, per la definizione degli spazi, insomma per renderlo adeguato a quelle che le esigenze, ripeto, di un servizio molto molto frequentato. La nuova sede, collegata al vicino tribunale, sarà pronta a maggio 2021. Accoglierà un'utenza notevolmente aumentata dopo l'accorpamento a Pordenone degli sportelli di Maniago, Spilimbergo, San Vito al Dalliamento e Portogruaro. Grazie.